ma che è quel coso? guarda che è? è l'aereo è l'aereo muovere guarda guarda mamma corriamo giù a vedere corri corri andiamo in là guarda guarda qua avanti andiamo andiamo eccolo là eccolo si riprendilo buon quadro aspetta ecco mamma che storia guarda 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 ma che è? guarda si è diviso si è diviso guarda che sta oh uno è volato via guarda 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 se sta a muovere se sta a muovere ma io sono paura guarda ce n'è uno piccolo e gli è cittadino guarda sta a scappare via verso il lato guarda 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 che storia mamma che è dato guarda 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 guard